in collaborazione con Cari amiche e cari amici della Pallamano ben trovati al Handball Time lo scorso fine settimana veramente intensissimo si è giocato su tutti i campi il Bolzano si riscatta vince bene a Siena per cui alla reduce della prima sconfitta si sono prontamente riscattati vince il Pressano lo scontro diretto per la seconda piazza supera per cui il Cassano perdono malamente il Merano a Colonie e il Bressanone che perde con qualche strascico polemico poi vedremo anche questo contro il Conversano perdono prima sconfitta stagionale anche per quanto riguarda le ragazze del Bressanone che hanno perso col Salerno in casa pur lottando una bella partita poi si parlava di mondiali per cui abbiamo questo e tanto altro in questa puntata vado subito a presentare i miei ospiti Stefan Per, ciao, benvenuto ciao Valter, buonasera a tutti ho detto si parlano di mondiali poi ne parleremo, tu so che ne vedremo le semifinali Ero ad Hamburgo, sì, uno spettacolo veramente un altro sport a questo livello Tantissima gente, biglietti biglietti, c'erano 13.000 persone ma poteva vendere 25.000 biglietti solo che il palazzetto aveva solo spazio per questi 13.000 esaurito tutto un spettacolo puro poi vedremo magari qualche immagine salutiamo anche un gradito ritorno Michi Niderviser, ciao Michi ciao a tutti anche te poi parleremo con te magari un pochettino di Palamano Femminile di Anika innanzitutto come sta? sta bene, si sta allenando adesso con il contatto fisico da oggi rientrerà penso fra due o tre settimane bene, entriamo nel vivo perché veramente abbiamo tanta carne al fuoco vediamo i risultati della seconda giornata di ritorno anche qui qualche sorpresa Gaeta 28-26 col Bologna per cui Gaeta stacca il Bologna il Bologna era reduce dalla vittoria in casa ha perso nonostante che avesse recuperato con Versano 32-21 sul Bressanone sconfitta pesante quella dei ragazzi di Kramer poi vedremo un episodio un po' che è stato commentato dalla rete poi Cingoli che vince col Fondi 27-22 vittoria importante del Cingoli in chiave salvezza Bolzano si diceva 36-20 ha asfaltato il Siena proprio grande reazione d'orgoglio Fasano 24-21 sul Trieste Pressano 26-25 contro il Cassano e poi questo Merano che perde 22-19 a Colonia vediamo la classifica Bolzano 27 Pressano 23 seconda posizione Cassano 22 Conversano 21 Fasano che deve recuperare due partite a 16 poi Siena 14 e via via tutte quante le altre Michi parto da te Bolzano si riscatta il Bressanone e il Merano però faticano non danno continuità ai loro risultati Sì, il Merano si sapeva che con uno stanero è abbastanza difficile invece il Bressanone con quattro sta giocando sotto tono perché secondo me la squadra dovrebbe essere sotto le prime quattro Bolzano fa bene fuori la partita col Pressano ha fatto tutto bene ha vinto abbastanza bene la Siena comunque tutto aperto e vediamo come va avanti come va avanti Stefano, il Pressano una vittoria importante in ottica playoff sicuramente erano due punti d'oro per i trentini che stanno veramente bene si vede, sono secondi però non dimentichiamo nel girone di ritorno devono far visita alle due pugliesi che sicuramente non sono punti facili in Puglia lo sappiamo poi per le altre il Cassano sorprende sempre sta anche giocando bene e il Fasano adesso dipende tutto penso da queste tre partite alto attesine che ha in pochi giorni perché sabato vengono a Bolzano poi hanno il recupero a Merano il 6 e il 13 a Bressanone se lì devono fare punti se no il Fasano rischia addirittura di star fuori dai playoff che sarebbe una cosa clamorosa alla fine vediamo anche gli altri campionati partiamo dal campionato femminile di Serie A1 la classifica ecco qui i risultati vediamo appunto il Brescia che vince col Favione 18 a 16 Ferrara adosso buono a 27 pari il Casal Grande che l'avevamo detto anche aveva impegnato il Bressanone vince 30 a 25 il Brixen che perde 18 a 20 contro Salerno contro le campionesse d'Italia in carica rientrava già da Babbo poi magari vedremo anche qui le immagini e poi l'Oderzo che vince con l'Eno la classifica Salerno 22 Oderzo 21 Brixen 20 poi Dossobuono Ferrara a 12 le altre tutte quante staccate Michi la classifica adesso da prime a terze però questo fine settimana c'è la Coppa Italia possono riscattarsi le ragazze di Rubina sì è una partita bella comunque se vediamo anche il Dossobuono che è entrato la Fantonda a Lungaria che anche lì in Coppa Italia potrebbe fare il colpo Brixen a 20 punti adesso ma comunque hanno fatto un bellissimo hanno fatto un bellissimo un bellissimo campionato era una bella partita potevano anche vincerla vediamo come va avanti ma fino adesso il Bessalone ha sorpreso ha fatto un bel campionato ha un bel gioco organizzato bene da Rubin il Salerno ha la straniera in più che fa la differenza anche l'Oderzo il Bessalone non ce l'ha vediamo il campionato di Serie A2 maschile anche qui si giocava la seconda giornata di ritorno la piano si riscatta dalla prima sconfitta che aveva avuto col Campodures 30-24 col Malo 33-18 il Molteno sul mezzo Corona poi il Tirol che vince sull'HMT 27-23 27-18 il Vigaso sul Crenna la seconda squadra del Bessalone che continua a stupire vince continuamente partite non sono giovani sono un po' gli anziani giovani un giusto mix comunque una squadra che fa punti e il Cassano 34-22 sul Torre è riposato il Campodures vediamo la classifica a piano 25 Cassano 24 via via tutte quante le altre anche qui Stefano la piano l'abbiamo detto è favorita no? Sì ci sono già tre squadre che sono adesso penso quelle che forse andranno anche a fare queste finalità fine stagione a piano Cassano e Molteno che hanno qualcosina in più vediamo il Campodures che è un calendario favorevole la squadra è il completo il Bressanone bisogna dire l'allenatore Peter Helmersson svedese il marito della Elke Niedervise è una squadra con un giusto mix peccato che non sempre giochi giochino i migliori che tanti dei loro giovani due e tre sono impegnati sempre anche con la uno maschile del Bressanone però hanno il fratello di Helmersson di Michael che gioca a Flensburg il fratello Mazz che ha fatto otto gol insieme come Salch sabato scorso lato terzo materiale ce n'è c'è servito l'assist abbiamo qui la foto di Helmersson che a Flensburg se non sbaglio ha fatto dieci gol magari dici un pochettino come si sta comportando il tuo nipotino ma lui si sta comportando dove viene lui gioca con l'Under 17 a 15 anni questo weekend ha giocato con l'Under 16 col Torchile ha fatto dieci gol sta andando bene è un impegno perché andare via a 14 anni da casa non è cosa facile si allenano quattro allenamenti per la mano tre di ripesi lui alto 1,95 in centrale sta facendo bene come anche il figlio di Prantner che gioca con quelli superiori anni 19 e si è pure allenato con la prima squadra mi sa queste sono belle soddisfazioni chissà mai se qualcosa tornerà fa solo un anno qual è l'obiettivo? lui siccome è anche metà svedese lui adesso vuole rimanere su anche perché lì non è facile entrare perché il Flensburg paga metà delle spese e lì non entrano tutti ma dopo non so lui vuole rimanere su o vuole andare in Svezia per cui comunque complimenti a tutte e due sia a lui che a Leo Prantner per quello che stanno facendo come anche i gemelli Mengon all'estero questi sono un po' diciamo il fiore all'occhiello della nostra pallamano sicuramente siamo arrivati al momento del primo servizio filmato c'era questo big match della seconda giornata a Pressano tra Pressano e Cassano andiamo a vedere come sono andate le cose ed ora Pressano la mente con la palla del vantaggio si buona e lì ancora undicesima vittoria stagionale per la pallamano Pressano Cassa Rurale di Lavis che corona al proprio periodo di grazia sconfiggendo al Palavis la formazione lombarda del Cassano Magnago con questo successo i gialloneri scavalcano proprio gli amaranto al secondo posto issandosi alla seconda piazza della graduatoria nazionale la squadra trentina ha dimostrato anche di saper soffrire e con un colpo di reni finale è riuscita a portare a casa l'intera posta in palio sul 26 a 25 che ha fatto esplodere il Palavis una partita davvero combattuta quella disputata tra la seconda e la terza forza della Serie A1 in avvio manca smalto a Bolognani e compagni che nei primi 4 minuti perdono 5 palloni e permettono agli ospiti di comandare lo score 1 a 3 una situazione difficile che si protrae fino al 4 a 6 è l'ala saitta nelle fila cassanesi a far male alla difesa di casa che lascia troppi varchi in attacco le cose non migliorano ma quando dal lago otto reti e top scorer affina la mira la squadra di casa risorge e passa a condurre per Entorio il parziale di 7 a 1 che vale il massimo vantaggio giallo-nero a 10 minuti dal termine 11 a 7 mister Kolec chiama time out e Cassano si scuote ma la squadra di casa con due reti di giungo torna avanti e chiude la prima frazione sul 14 a 11 un vantaggio comunque insignificante ma nella ripresa è ancora Pressano a fare meglio la difesa tiene recupera palloni e in attacco i padroni di casa riescono a bucare Monciardini con Di Maggio Cassano da miglior difesa d'Italia mette infatti in seria difficoltà le iniziative di casa e Pressano soffre ma sembra tenere in mano il match sul 19 a 15 Folgraiter ha il pallone del possibile più 5 ma Monciardini para e gli ospiti si scuotono il portiere Amaranto continua a chiudere le conclusioni dai 6 metri dei padroni di casa e Cassano comincia una lenta ma inesorabile rimonta rete su rete i Lombardi tornano sotto e solo qualche soluzione individuale mantiene il Pressano avanti l'aggancio si concretizza proprio nel finale a 5 minuti dal termine Cassano pareggia ancora con Saitta 23 a 23 tutto da rifare per i gialloneri che si scompongono e passano anche a inseguire sul 24 a 25 la situazione sembra critica ma Bolognano in sfodera una doppietta dal cilindro degli ultimi due minuti la difesa di casa regge e i gialloneri fanno valere la legge del Palavis trionfando 26 a 25 ecco Stefano abbiamo visto il Pressano era partito come un diesel adesso sta crescendo l'entusiasmo questa squadra inizia a crederci dopo la supercoppa secondo posto raggiunto aiuta a vincere questi qua hanno una squadra collaudata hanno portato in Trentino qualche giocatore in più c'è Dedovic c'è Argentini che sta giocando bene dopo un inizio un po' così così e hanno Bracco Dumic che è uno dei allenatori più preparati di tutta la serie A1 per quello questo è il risultato è questo penso che il Pressano quest'anno un po' con lo scudetto che manca ancora questa società può anche ambire a questo perché no loro hanno trionfato a Bolzano dopo gli errori che hanno fatto alla prima di campionato adesso stanno giocando bene e vedremo come andranno le cose anti-Bolzano Michi secondo te il Pressano ha tolto il Bolzano le altre se lo consideri la seconda forza sì al Pioff tutto è possibile si deve vedere in che stato arriva una squadra comunque il Pressano è una squadra esperta se dopo il portiere chiude la porta è sempre difficile a vincere dipende praticamente ma si è visto il Pressano è andato a vincere Bolzano che è tutto a parte siamo arrivati al momento del primo stacco pubblicitario diamo la linea alla regia e poi torniamo in studio eccoci nuovo in studio abbiamo parlato del Pressano di questa vittoria abbiamo parlato del Bolzano iniziamo a parlare un po' delle note meno positive Bressanone e Merano che hanno perso entrambi Bressanone ha perso male ha perso di nove gol era sempre sotto di undici c'è però un po' di polemica per un intervento che è stato postato sulla rete non so se l'hai visto Michi magari chiediamo alla regia se lo può riprendere magari lo vediamo insieme questo fallo che è stato fatto eccolo qua lo vediamo c'è questo pugno da dietro questo colpo diciamo non so se è un pugno o una sberla da dietro da parte di Pasquale Maione a palla lontana si deve dire che adesso c'era tanta pubblicità per la pallamano non c'erano così tanti spettatori come questi mondiali in Danimarca c'era più più gente davanti alla tv di 2 milioni 700 nel calcio finale quando la Danimarca ha vinto il calcio c'erano 2 milioni e 600 e arrivano queste immagini dell'Italia secondo me questo fallo il Bozzola nell'87 ha dato un calzotto al Petterson il capitano della Noveggia ma quello l'aveva preso era faccia a faccia e Bozzola ha preso due anni di squalifica se Bozzola ha preso due anni di squalifica qui ci sono da dare tre uno perché il fallo il pallone è da tutta un'altra parte Doffman sta girato con la testa verso Maione e questo non è un fallo questo è proprio un reato e secondo me qui la federazione adesso deve intervenire perché questo non può essere un esempio per i nostri giovani e secondo me non deve essere più chiamato nazionale questo è il primo ma deve anche essere squalificato per minimo un anno perché è una cosa incredibile guardate questa cosa lo può anche ammazzare questo può anche fare denuncia se la federazione non fa niente io come ma c'è un giudice sportivo c'è un capo arbitri arbitri non hanno visto ma io consiglierei di andare all'IHF e fare casino perché una cosa così non è tollerabile non l'ho visto mai in 45 anni di Palamano non fallo così Stefano probabilmente la partita non aveva storia la partita era già vinta il conversano l'ha dominata dal primo all'ultimo minuto non è che il fallo infatti la partita era già vinta dal conversano visto che il personone è andato in gita in Puglia e va bene così però il fallo è da espulsione sicuro ovvio può succedere che gli arbitri non lo vedono ma queste immagini qua in tv però la prova tv nella Palamano non è ancora contemplata non conta niente adesso vedremo cosa succede però il fallo questo è un fallo brutto da sanzionare sicuramente ovvio come ha detto può capitare che gli arbitri non lo vedono anche perché ovviamente gli arbitri sono concentrati proprio per guardare dov'è la palla solo in due devono vedere un po' tutto però il fallo il brutto gesto c'era in questo caso adesso il Bressanone comunque avrà modo di recuperare delle prossime partite quello che hai detto te in gita è quello che ha detto Michi forse è un campionato sotto le attese fino a questo momento ricordiamoci che il Bressanone è una squadra con quattro tra virgolette stranieri perché c'è Crespo c'è Nenadic c'è Basic c'è la destra che sono quattro giocatori che vengono da fuori e per loro hanno secondo me sono veramente sotto le aspettative tutte le aspettative secondo me era una squadra che poteva ambire al playoff invece qua con un po' di fortuna sono riusciti a qualificarsi per la Coppa Italia come ottavi dopo il girone di andata adesso la squadra sicuramente non sta facendo quello che tutti si aspettavano abbiamo qualche immagine anche di Cologna e Merano anche qui altra delusione il Merano veniva dalla vittoria con Versano dalla vittoria con Vincente in casa dopo la ripresa ci si aspettava una prova vittoriosa in trasferta dei ragazzi di Gagovic invece hanno perso Mato il problema di questo Merano secondo me io ho visto la partita ha fatto un secondo tempo orribile in attacco ha fatto solo 7 gol ricordiamoci che Ratko Starcevic che è il loro giocatore di punta che ha fatto 13 gol la settimana prima col Ghetta non ha fatto neanche un gol su azione la dice lunga sulla prestazione di questo Merano che difesa ha anche tenuto ma con 7 gol in un tempo non vinci da nessuna parte in a 1 fuori casa è impossibile so che tu forse hai notizie c'era anche Luca Stricker infortunato Luca Stricker ha un problema al tendine d'Achille adesso bisogna vedere se recupera e quando recupera ma temono che stia fuori almeno per le prossime due partite con Bologna e Fasano per cui però ricordiamoci il Merano ha una squadra fatta in casa con uno straniero che adesso l'hanno anche cambiato perché è arrivato Pavlovich al posto di Suonic e hanno uno solo e sicuramente hanno un budget minore rispetto a quello di Bressanone che con questa squadra dovrebbe essere nei piani alti della classifica Michi tu hai giocato anche a Merano sei stato il portiere dell'unico scudetto uno degli artefici dell'unico scudetto cosa dici di questa squadra tu la so che l'hai vista a Bressanone nel derby Bressanone e a derby hanno giocato bene è una squadra a due facce ma questo tipico per una squadra giovane e se non c'è Stricker allora manca qualcosa e dopo vincere a Colonia è sempre difficile mi meraviglia un po' perché Starciovic non ha segnato ma forse aveva un po' di mal non so cosa è successo non ho visto neanche la partita comunque un punto dietro a Bressanone mancava ancora bene si sapeva che il Merano con questa squadra giocava per l'ottava o dodicesimo posto hanno fatto qualche partita bella questa Bressanone l'ho visto io è una bellissima partita anche a Conversano allora ha vinto a Conversano ha fatto un punto a Trieste fuori casa e il Merano ha sempre dato il suo forse questa partita con Colonia è l'eccezione ma loro hanno hanno giocato male tante partite in casa hanno perso col Colonia in casa hanno perso col Siena male in casa hanno vinto a fatica col Cingoli non hanno mai espresso il loro gioco davanti al pubblico amico adesso vediamo adesso hanno tre partite in casa in una settimana vediamo cosa succede probabilmente anche l'assenza di Jürgen Prantner questo cambio in panchina con l'arrivo di Gagovic ma a quello non penso perché dopo nove anni di Jürgen Prantner sicuramente è un bene per tutti per tutto l'ambiente che c'è un cambio poi Mila Gagovic non è uno nuovo lui ha fatto l'assistente è stato l'assistente di Pranta negli ultimi due anni lui conosce la squadra conosce l'ambiente quello non penso che sia stato un problema a proposito di Jürgen Prantner abbiamo una bella intervista confezionata da Luca Boninsegna con l'ex allenatore del Merano e ora nello staff azzurro ascoltiamocela bentornati alla Handballstube oggi è venuto a trovarmi Jürgen Prantner ciao Jürgen ciao Luca ti voglio chiedere subito com'è il sabato svegliarsi e sapere che non devi giocare allenare dopo 30 anni che lo facevi il sabato libero come lo vivi ma è sicuramente un'altra situazione sicuramente anche più rilassante perché una partita il campionato era sempre un impegno non solo il sabato ma anche durante la settimana è un impegno molto più più grande che adesso che sto facendo con la giovanile anche se la giovanile è un lavoro che mi piace molto e ci sto dietro però è chiaro c'è meno pressione è tutto un po' più sereno diciamo poi non era solo il sabato ma anche la domenica mattina quando ti svegliavi e non hai vinto allora era un po' soprattutto quando non hai vinto quando hai vinto invece giusto magari era più difficile svegliarsi perché si ha festeggiato esatto no tornando a serie ti manca una prima squadra o ti piace questo come hai detto tu tutto più leggero tutto più rilassato ma diciamo così a me adesso questa pausa veramente me la sto godendo è quello che volevo anche per prendere un po' di distanza vedere le cose anche un po' da fuori io devo dire anche che anche adesso stando fuori ho imparato tante cose perché lo vedi proprio da un altro punto di vista penso che questo anno forse due adesso vediamo mi fa bene poi non si sa quello che viene però in futuro pensi di ritornare ad allenare una prima squadra o non necessariamente a Milano non è scontato sicuramente è sempre una cosa bella adesso in questo momento sono impegnato anche con la nazionale segno anche nella giovanile quindi non è che sono completamente fuori però sicuramente è un'altra cosa è un'altra cosa perché fare un anno con una squadra bisogna programmare bisogna allenare seguire è un po' diverso ci sono giovani che vedi pronti per il grande salto quindi entrare nella nazionale Sì ci sono secondo me ci sono noi proprio abbiamo questa squadra dei millennium che secondo me sono lì ci sono dei ragazzi molto molto validi forse in Italia non abbiamo queste grandi scelte cioè lì ci sono pochi giocatori che però sono bravi non è che abbiamo adesso 40-50 giocatori che posso dove possiamo scegliere per quello io penso che noi questi ragazzi li dobbiamo curare li dobbiamo seguire li dobbiamo dare anche la possibilità di allenarsi alcuni lo stanno già facendo anche l'estero se guardiamo anche i fratelli Mengon che stanno facendo molto bene secondo me possono essere loro in prospettiva il terzino tiratore che tanto manca alla nazionale italiana o ma diciamo così che terzino tiratore sì forse anche loro possono però io anche vedo nella Palamano futura non è che conta solo che conta solo il tiratore che ti spara da 10 metri sì anche forse ci vogliono questi giocatori però non è non è la base della Palamano futuro secondo me e poi speriamo anche che la prossima il 2002 il 2003 che fanno questa strada che promette bene tornando a cose il ruolo il ruolo fosse più coperto tu da ex alla destra è proprio l'ala destra dove lì crescono i talenti tra Max e Leo Bronto di Fasano Bortoli del Casano è un ruolo dove si è coperto io penso io penso su questo ruolo possiamo anche fare tre squadre nazionali no infatti no è veramente loro cioè penso che su questo ruolo abbiamo diversi giocatori molto validi ed è giusto è buono così così almeno devono lottare per il posto credo anche che importantissimo sarà che cresce il campionato italiano perché questo perché se tu ti puoi misurare sabato per sabato contro delle squadre forti allora lì cresci e oggi cioè quest'anno si è fatto un passo perché penso che il campionato è diventato un po' più intenso diciamo almeno si vede anche nei risultati però secondo me deve crescere ancora deve il campionato deve assolutamente migliorare ancora per 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 essere allenante per i ragazzi frutto poi nazionale grazie la chiacchierata in bocca al lupo grazie ciao Luca eccoci bella intervista Jürgen Prantner tra il resto è stato l'allenatore allenava lui il Merano quando tu hai vinto lo scudetto che avete vinto e poi è tornato a giocare anche lui una carriera lunghissima siamo arrivati a parlare della top 7 di questa settimana magari la vediamo ovviamente la top 7 è dominata dai giocatori di Bolzano e Pressano sono le squadre che si sono messe più in luce in porta Matevo Larevic adesso è arrivato anche il suo secondo quindi il Bolzano si può dire che ha la squadra completa a parte lui è arrivato appunto a Mendolagine come secondo portiere alle ali abbiamo Martin Sonner e Alessio Giongo entrambi stagione da incorniciare fino a questo momento Dinko Dedovic come ruolo di Defensor Play come giocatore in difesa poi abbiamo Mario Sporcic 6 gol titolare come centrale Turcovic e Dallago sono i terzini Alilcovic come pivot è stato un bel acquisto del Bolzano allenatore Boris Dvorak del Bolzano perché sta ovviamente si è ripreso non era facile perdere e riprendersi così Michi un tuo commento sì sì tutto a posto Bolzano ha vinto il Pressano ha vinto una partita importante dopo non ho visto le due partite fra Presano Fra Bolarvic e San Paolo che ha parato di più ma sono portieri del stesso livello Stefano? No d'accordissimo anch'io penso posso dire che anche Hannes Imna come pivot ha fatto una bellissima partita a Siena ma anche Damir e Lilcovic come hai detto prima un acquisto azzeccatissimo e ricordiamo che il Bolzano adesso ha messo sotto contratto anche un secondo portiere perché ha preso Francesco a Mendolaggi nelle vecchie conoscenze ha fatto sei anni a mezzo corona lui adesso fa il secondo da adesso in poi a Bolarvic per quello l'unico punto debole del Bolzano è stato cancellato diciamo che adesso che ne avevamo l'avevi scritto se ne era parlato giocare con un portiere seppur forte come Bolarvic senza un secondo poteva essere rischioso so che Michi anche tu eri abituato a giocare da solo non volevi secondo ti giocavi 500 100 partite consecutive però quanto è importante avere anche un secondo portiere che ti garantisce non si sa mai in caso di il secondo portiere serve sempre perché ti serve per allenare e dopo io sono l'opinione che ti devi guadagnare devi il posto cioè ci deve essere una concorrenza e chi è più in forma gioca scusami ero sempre più in forma allora giocava pure mi ha detto che anche adesso giocheresti non ti viene qualche volta la voglia di tornare in campo sì sì a me piaceva più giocare se questi si lamentano che giocano due volte a settimana a me piaceva sempre di più giocare che allenare comunque ero un portiere non ero fuori sul campo non ho subito questi falli comunque mi piaceva da matti vediamo la classifica marcatori giusto per indicativo Moretti ha superato ha sfondato quota 100 103 Nelson 95 del Siena Leal 91 si è mossa poco e via via poi tutti quanti gli altri l'anno scorso Crespo col Trieste era sempre in testa quest'anno fatica un po' sì vuol dire che si deve vedere chi tira i rigori ma vuol dire che non viene portato così bene in posizione come il Trieste comunque i marcatori cioè essere marcatore non vuol dire non vuol dire tutto la media della squadra deve segnare e questo se la squadra tutta la squadra segna allora tu hai un buon gioco di attacco e dopo vinci non serve solo uno che segna ma comunque a Bessanone faceva anche bene quest'anno un Lazarevic che era sempre lì davanti che ti tira questi gol quando serve da fuori quello che dice lui è giusto anche un giocatore come Gaeta che quest'anno in forma strepitosa non appare neanche nella top ten no? no infatti delle prime tre squadre del campionato troviamo Alessio Moretti troviamo Turcovic che loro tirano anche i rigori e basta non c'è nessuno del Pressano per esempio nei primi dieci quello vuol dire come ha detto Michi Pima la squadra è importante ovvio ci vuole un protagonista un giocatore la Danimarca il mondiale ha vinto anche grazie a Michael Hansen che ha fatto tutto però devi essere forte in tutti i ruoli così per vincere qualcosa ecco siamo arrivati al momento di vedere l'incontro il big match del campionato femminile si giocava Bessanone davanti a tanto pubblico Bessanone contro Salerno andiamo a vedere come sono andate le cose dopo una lunga serie di risultati utili si interrompe la striscia positiva del Brics & Sud Tirol che incappa nella prima sconfitta stagionale al cospetto della Iomi Salerno al palasport del laghetto le ragazze di Rubin Nussing si sono dovute arrendere con risicato punteggio di 18 a 20 scivolando così al terzo posto della strettissima classifica in un solo colpo la potenza salernitana è emersa a lungo andare nel corso del match una vera e propria battaglia giocata di fronte a un grande pubblico l'avvio è tutto di marca altoatesina una doppietta della ritrovata già da Babbo propizia il break iniziale delle padrone di casa capace di portarsi su un formidabile 5 a 1 dopo appena sette minuti di gioco immediato arriva il time out di Mr. Raggi che l'interruzione sortisce e gli effetti sperati perché Salerno restituisce il favore infilando a propria volta un break di 1 a 5 grazie a quattro reti consecutive di Ilaria dalla costa tutto da rifare per la squadra di casa che cerca di reggere l'urto psicologico ma a fine primo tempo è costretta a inseguire 9 a 10 nella ripresa ancora battaglia sul filo delle reti le difese e i portieri hanno decisamente la meglio sugli attacchi e Salerno appare più determinata toccando il massimo vantaggio sul 12 a 15 dopo 10 minuti della ripresa è un vantaggio considerevole che le ragazze ospiti non sciupano Brixen fa sentire il fiato sul collo ma non va mai oltre a una rete di svantaggio e nel finale la IOMI chiude i conti portando a casa il successo e la vetta della classifica sul 18 a 20 oggi possiamo dire sicuro che era fisicità perché noi abbiamo fatto per mio gusto tanti sbagli e dopo di una vittoria 20-18 vuol dire che abbiamo combattuto tutte e due squadre e volevo complimentarmi con Hubi che con quello materiale che ha i quattro lamenti ci ha fatto sudare moltissimo si vede che sono una squadra compatta con suoi problemi noi abbiamo nostri problemi loro loro mancavano loro due giocatrici ultimamente a noi altre due però il sport è così con questo materiale che hai devi disputare la partita meglio possibile loro ci hanno fatto faticare sicuramente una grande vittoria in una trasferta molto complicata con una buona squadra una squadra che comunque è arrivata preparata forte in tutti i reparti e ci hanno messo in difficoltà hanno davvero messo il 100% davanti al loro pubblico era giusto così e comunque anche i complimenti vanno a loro perché non hanno mai mollato ci sono stati tanti errori da una parte dall'altra noi siamo riusciti a sbagliare qualcosa in meno che poi ci ha portato alla vittoria per noi è una vittoria importante sia per la classifica ma anche per il morale in vista della Coppa Italia comunque c'è più entusiasmo e più carica ancora quindi siamo contenti e va bene così loro sono dei prefusinisti che se lineano da 6 a 8 volte a settimana noi tra i 4 ma sono molto orgoglioso di questa squadra che ha mostrato di nuovo carattere stare lì per 60 minuti a uno sopra a pari poi con la Federspiller che gli ultimi 10 minuti sei fortunata che anche lei è una piadina molto importante per noi ma devo dire che questa squadra non mi molla mai complimenti loro sono le protagoniste secondo me anche se mi hanno perso di due ma sono loro che effettivamente fanno vedere che con la grinta con il lavoro che loro durante la settimana svolgono fanno veramente complimenti alle mie ragazze Chapeau alle ragazze di Ubi Nessing al tuo avete allenato insieme sei compagni di tante avventure Michi è una bella favola l'aveva detto anche Ubi adesso loro sono in Coppa Italia fra una settimana vincendo il girone d'andata si sono riusciti a assicurare diciamo un sorteggio sulla carta migliore nel senso che in semifinale si incontreranno probabilmente Odersio e Salerno le chance che hanno secondo te? Ma secondo me se arrivano in finale hanno buone chance perché il Salerno è una squadra vecchia che corre poco gioca di esperienza invece il Bessanone è basato più il gioco sulla corsa perché non hanno neanche i tiratori da fuori sui schemi allora se arrivano in finale secondo me il Salerno lì sarà a pezzi e il Bessanone avrà buone possibilità prima devi comunque arrivare in finale ma comunque stanno facendo un gran campionato un bel gioco complimenti a Bessanone e anche a Ubi Stefan tu cosa dici? La Federspiel si è infortunato ha sentito? Sì lei non sta al top aveva già un problema alla spalla prima adesso ci sarà comunque ci sarà quello senza altro anche la Babbo non è ancora al 100% dopo questa malattia però voglio ricordare che una Final 8 è un torneo veramente atipico per la palamano italiana che non siamo abituati a giocare tre partite in tre giorni che è una tour de force pazzesco noi siamo non siamo professionisti pochissime squadre lo sono e fare tre partite in tre giorni è una cosa totalmente diversa rispetto a una partita singola di campionato per quello secondo me è importante bisogna vedere da partita a partita prima andare in semifinale poi in finale poi c'è un'altra partita da giocare da vincere qua è una fan apertissima sicuramente Michi tu so che la palamano femminile la conosci a parte tua figlia il momento della palamano femminile italiana era nato questo campionato a 14 adesso a 10 la nazionale che stenta un pochettino quale può essere la ricetta? adesso hanno perso le 16 con il Portogallo vedendo viene poco anche da dietro sul maschile c'è di più materiale ma comunque dobbiamo formare fare formazioni allenatori questo non con i quiz ma su primo e secondo livello sul campo che devono insegnare ai ragazzi dobbiamo avere allenatori dobbiamo avere dei centri per i giovani per sviluppare meglio il livello e dopo le squadre devono giocare anche in Coppa e lì la federazione se non fa niente si sta facendo un ridicolo perché pure la squadra del vicepresidente non gioca in Coppa e se tu non giochi in Coppa la federazione deve dire o vi do un incentivo o vi spalifico è finita la storia perché ci facciamo ridicoli in tutto il mondo e qui l'appello della federazione inventatevi qualcosa di nuovo sei d'accordo Stefano? sono d'accordissimo perché il problema nella femminile è che veramente manca un po' la materia prima abbiamo poche squadre poca qualità il livello è veramente non è non è così alto come una volta ma voglio ricordare che l'anno scorso nel giugno del 2017 due anni fa abbiamo giocato i playoff con Nida Visera in panchina contro la Serbia stavolta stavolta siamo usciti col Portogallo veramente perdendo male e quello costruito in questi anni non si è visto più niente abbiamo preso delle battoste però c'è l'attenuante che mancava Anica che l'abbiamo detto anche quando c'era questo è vero questo è senza altro questo è vero però bisogna almeno con la nazionale lavorare in un modo più professionale solo che se nei club non si lavora in un certo modo è difficile avere poi una nazionale forte questo è uno dei problemi Tu hai parlato di altro sport riferendoti ai mondiali siamo arrivati al momento di vedere anche qualche cosa assieme a Luca Zadra diamo la linea alla pubblicità e poi torniamo con Luca Zadra che fa la sintesi sui mondiali appena conclusi Eccoci il nome studio Luca bentornato Buonasera Walter e buonasera a tutti abbiamo parlato commentato visto immagini abbiamo parlato di questo pressano tu eri lì che facevi gli scongiuri quando ci parlava che siete l'anti Bolzano scongiuri insomma quando sei in ballo devi ballare quindi è giusto che la squadra seconda in classifica sia considerata fra quelle che possono fare risultato è giusto così stiamo giocando una buona palla a mano e speriamo di andare avanti così perché storicamente un po' tutte le squadre hanno sempre avuto i loro 4-3-4 mesi di grande forma per poi magari calare un po' lo scorso anno avevamo avuto la stessa cosa però in un periodo diverso era stato partito tutto a gennaio fino a marzo e speriamo di allungare l'onda quest'anno comunque io mi sento di fare i complimenti ai ragazzi perché stanno veramente giocando molto bene parlando di mondiali si sono conclusi Stefan ci ha raccontato un po' sì infatti adesso per fortuna oggi parlando della fine dei mondiali abbiamo qua due personalità che insomma di parlamano internazionale se ne intendono e si sono conclusi i mondiali ha vinto la Danimarca in casa propria quindi diciamo un successo costruito voluto è meritatissimo perché la Danimarca ha fatto una riga impressionante non so se qualcuno in passato era riuscito a fare un percorso così netto perché proprio hanno giocato senza grandi difficoltà con tutti vediamo la grafica ce l'abbiamo qui partendo dalle semifinali che hanno visto la Danimarca distruggere la Francia la Francia non aveva mai preso 38 gole mondiali e la Norvegia che ha vinto di 6 con la Germania è una partita comunque equilibrata il più 6 è maturato nell'ultimo minuto prima erano più 2 più 3 fino a 2 minuti alla fine una finale tutta scandinava meritata direi e poi la finalissima la Danimarca ha assolutamente annichilito una Norvegia stanca provata psicologicamente e soprattutto priva al 60% del giocatore che si era fatto vedere maggiormente questi mondiali che è il mancino Rog che non ha giocato sicuramente la finale al massimo del proprio potenziale ma comunque la Marca ha dato una prova di superiorità incredibile atleticità correvano dal primo minuto il doppio degli altri poi c'è stato un bellissimo terzo quarto posto tra Francia e Germania con un gol di Carabatico fallo secondo me infatti mi sono stupito quando l'ho visto lo guardavo in diretta e ho detto ma fischia no non fischia ha segnato la Francia all'ultimo secondo con Nicola Carabatico che è arrivato a metà mondiale quindi anche lì un favolo nella favola e leggevo proprio l'altro giorno se mi supportano soprattutto Stefan Carabatico era quindicesima medaglia in 16 anni nazionale ma lui ha una garanzia diciamo che qualcosa ha vinto ha vinto tanto quindi grande grandissimo grandissimo mondiale record di pubblico nei palazzetti record di pubblico in televisione e quindi meglio di così diciamo non poteva andare a livello di visibilità la Palamano ha dimostrato in questi mondiali che è in continua crescita a livello mediatico e speriamo anche noi di saltare un po' sul treno magari non con tutto il corpo ma con un dito per attaccarci per usare una metafora abbiamo due clip abbiamo le 5 migliori parate e i 5 migliori gol partiamo dai gol degli ultimi due giorni intanto che li vediamo Stefan tu eri su hai potuto vivere di persona l'atmosfera no? Sì ho visto le semifinali come detto a D'Aburgo due partite veramente molto molto belle vista tra le resti vista sì sì questa tra le resti e vi dico che i portieri francesi in due hanno parato quattro palloni con quattro parate non vinci nessuna partita tristissima a 12 minuti dalla fine i portieri della Francia avevano un 2 su 27 sì e non vinci neanche contro l'Under 18 con un 2 su 27 alla fine hanno avuto un 4 su 42 insomma Omeyé sicuramente con queste statistiche dimostrano che la Francia ha costruito i propri successi sul grande gruppo storico stellare di un tempo ma anche sul proprio portiere che adesso non c'è più aveva fatto il protagonista lo scorso anno Gerard quest'anno purtroppo no mentre stiamo vedendo davvero dei numeri incredibili che sai Marlina Lala stupendo e mi sento di sottolineare anche la prestazione di Michel Hansen un po' additato da tutti come il magnifico perdente fino ad oggi perché col Paris Saint Germain e compagnia ha sempre avuto difficoltà e la Champions League non è riuscita a vincerla a Parigi a livello di nazionale la Danimarca era sempre stata un po' la seconda la storica seconda l'onda persa la finale dei mondiali quattro anni fa eccetera eccetera quest'anno ha massacrato tutti perché ha fatto 14 gol alla Norvegia 12 gol in semifinale alla Francia 8 gol in finale capocannoniere miglior giocatore trascinatore in casa propria consacrato incoronato il più grande fatto dei numeri veramente pazzeschi perché no al di là dei gol ma anche tutti i suoi assist quello che dà lui come presenza in campo al momento lui è il miglior giocatore al mondo mi sento di dire conviesto anche tu sei d'accordo sì sì c'è anche il centrale della Norvegia che è un bel giocatore però hanno 22 anni e anche lui ha un gran futuro assolutamente vediamo le parate intanto abbiamo anche le parate le guardiamo ci godiamo questi gesti tecnici sì secondo me in finale poi non è neanche stata una questione dei portieri perché prima della finale si diceva eh ma Landim para l'altro no e quindi ha Danimarca favorita alla fine la Danimarca ha poco vinto di squadra più che con le statistiche alla mano perché più sette più otto subito già nel primo tempo è partita a poca davvero poca storia mi ha stupito devo dire la Germania che dopo la prima partita con la Corea non avrei dato avrei dato difficilmente in semifinale e invece è riuscita a arrivarci ma sì con qualche polemica lì con la Croazia però secondo me lasciano il tempo che trovano perché comunque la Germania ha fatto un ottimo mondiale sfiorando anche il bronzo o tra il resto sì infatti ci poteva stare la Germania sul podio sì secondo me loro hanno sbagliato praticamente la partita con la Norvegia secondo me ci doveva stare un marcamento uomo perché ne ha distrutto un giocatore anche il cambio del portiere Wolf che fino lì aveva il 35% primo tempo ha parato ha cambiato portiere ha distrutto il mondiale il portiere e lì potevano entrare in finale ma di più non c'era perché contro la Danimarca non c'era storia come ormai finiva male male con la Danimarca dopo giocare davanti a 20.000 a Colonia è chiaro che ti portano gli spettatori comunque infranto il record eravamo qua a martedì scorso dicevamo 10 milioni e 800 mila a vedere la partita con la Croazia la semifinale 12 milioni 12 milioni in Germania 12 milioni io se non sbaglio in Italia si ricordano i 23 24 21 milioni delle grandi partite internazionali dell'Italia di calcio però ogni anno il record di ascolti lo fa il Festival di Sanremo con 10,8 11 milioni e in Italia l'Italia l'italiano è un paese dove la gente guarda la televisione in Germania 12 milioni 35% di share un tedesco su tre che era davanti alla televisione guardava la Pallamano io ero io questo fine settimana ero in Lussemburgo e tutte le televisioni di tutti gli hotel solo sui mondiali di Pallamano per cui era anche bello da vedere insomma me le sono godute godute guardandole così beh noi nel nostro piccolo siamo siamo come si dice orgogliosi di poter essere una minoranza che segue uno sport che altrove è idolatrato bene noi siamo veramente in chiusura io vi ringrazio grazie Stefan di essere intervenuto grazie per l'invito noi ci vedremo sicuramente sui campi c'è Bolzano Fasano questo sabato non dico altro Michi grazie anche a te grazie di tutto sei sempre piccante preciso puntuale quando vuoi venire a trovarci sei sempre benvenuto va bene a nuovo grazie Luca grazie anche a te noi ci vedremo sicuramente fra settimana prossima assolutamente sì grazie Valt io ringrazio ovviamente tutti coloro che ogni settimana contribuiscono alla realizzazione di Hanwell Time e le amiche e gli amici della Palamano d'appuntamento fra sette giorni qui su RTTR ciao ciao a tutti e alla prossima in collaborazione con a tutti i nostri Grazie a tutti.